L'Olimpico è tutto da Bruno Longhi e Aldo Serena. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Canale 5. Un appuntamento? Gli accessori per cellulare non sono tutti uguali. Phonics, accessori per telefonia cellulare. Grissin Bon, mangiare con gusto. Telefono azzurro non è solo un numero di emergenza, è anche una struttura che lavora per i diritti dei bambini. Anche in Italia ci sono migliaia e migliaia di bambini costretti a lavorare a 8-10 anni di età. È come se fossero dei piccoli schiavi e senza istruzione lo saranno anche domani. Sostenete il telefono azzurro in questo impegno, chiamando il numero che vedete potete unirvi all'Italia che si muove per i suoi bambini. Chiari amici, prima di scoprire che è stato invitato questa sera al Maurizio Costanzo Show, vi ricordo che domani sera alle 21 potremo seguire in prima visione TV il quinto episodio di Amico Mio, la nuova serie con Massimo D'Apporto, Desiree Nochebush, Maria Amelia Monti, Riccardo Garrone e Adriano Pantaleo. E ora guardiamo il Maurizio Costanzo Show. A più tardi. Il Club Membership Rewards di American Express vi presenta il Maurizio Costanzo Show. Buongiorno a tutti. 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 Grazie a tutti.